Nicolò Gamelera si appresta da Imperia a levare l'ancora per preparare alcune regate così di avvicinamento e poi una regata in Atlantico, insomma un'avventura incredibile. Sì, sì assolutamente, finalmente ho iniziato questa campagna per la Mini Transat 2023 e ho appena finito la prima regata in Francia, la qualificativa e adesso tra pochi giorni ci sarà la prossima in Toscana, partirò da qual 17 e insomma ci sarà una regata di 200 miglia in doppio giù a Punta Ala, percorso qualificativo che inizia. L'Atlantico è impegnativo, tu hai alle spalle se non ero un'esperienza da skipper a bordo di 12 metri, dico bene? Sì sì esatto, quello è il mio lavoro, la mia professione da ormai diverso tempo, sono una decina d'anni che mi diletto come skipper su barche d'epoca a 12 metri di stanza internazionale e adesso sono passato però a tutt'altro, insomma sono barche completamente diverse, però comunque l'esperienza anche su barche lente aiuta nell'approccio anche a barche moderne e plananti. Anche perché in Atlantico si è in regata ma su questa varca qui sarai da solo? Assolutamente sì, questa è la particolarità della Mini Transat, appunto è una regata in solitaria, senza assistenza, senza comunicazione con l'esterno, si coppe ogni due anni, oramai sono dal 1977 che si svolge ogni due anni, e sì insomma è la regata più importante per avvicinarsi al mondo offshore della navigazione in solitaria, insomma è proprio l'inizio. Ecco qui sei sotto la protettrisi diciamo di Furio Parodi del Porto Monizio Yacht Club, ma come ti è venuta in mente questa cosa di voler fare a tutti i costi la solitaria? Guarda è una cosa che in realtà non è che l'abbia deciso un giorno, è arrivata col tempo, fin da bambino dove ho iniziato a far vela che era proprio qua fra l'altro, proprio in questo punto esatto dove uscivo quando avevo 5-6 anni con gli Optimist, già allora facevo fatica a rimanere nel campo di regata e sotto la supervisione dell'allenatore, già allora uscivo sempre un po' fuori dai margini, mi allontanavo sempre un po' troppo e quindi ho sempre avuto questo spirito magari un po' brado così, però poi col tempo insomma ho capito che dovevo incanalarlo in qualcosa e quindi insomma è diventato naturalmente la mini transat e la navigazione in solitaria ad altura appunto. E allora in qualche modo ci terremo in contatto anche senza contatti in mezzo al mare per sapere? Sì sì ci sono comunque due anni di avvicinamento e di regate quindi assolutamente volentieri, grazie.